La parola di oggi è orifiamma. Deriva dal latino aurea flamma, cioè fiamma d'oro. L'orifiamma era una bandiera rossa, cosparsa di stelle e di fiamme d'oro, e terminante in due o tre punte bordate da una frangia di seta verde e oro, usata in Francia. Originariamente era l'insegna dell'abbazia di Saint-Denis alla periferia settentrionale di Parigi sulla riva destra della Senna, e dal secolo XII al XIV divenne l'insegna militare dei re di Francia. Una bandiera certamente piuttosto vistosa e per questo diventata quasi leggendaria. Estensivamente nel linguaggio marinaresco, soprattutto ma non solo, ha assunto il sinonimo di stendardo, gonfalone, drappo da parata, di bandiera in genere, e molte comunità hanno dato ai loro labbari lo stesso nome. Non ultima la Federazione degli Scout d'Europa, che chiama con questo nome il suo stendardo, peraltro assai diverso dal loro fiamma originale. Proprio questa immagine di colore acceso e di grande luminosità di rosso e oro, ha consigliato Dante Alighieri di usare questa parola nel canto trentunesimo del paradiso, facendola diventare non più simbolo di guerra, ma di pace, e quindi chiamandola pacifica orifiamma, per indicare la parte più luminosa dell'Empireo, al centro del quale siede la Madonna. Per completezza di informazione, dirò che con il termine orifiamma si indicano anche alcuni tipi selezionati di pesci, che si ammirano negli acquari di lusso, e che, originati dal più comune pesce rosso, mostrano come bandiere lunghe e colorati appendici, code e pinne, che si muovono in modo sinuoso come morbidi ventagli.